Il paradosso di Amsic e Giorgino Napoli, il paradosso di Amsic e Giorgino, giocano ma non pagano. Zielinski ed Awara scalpitano. Del Napoli si potrebbe dire che ha iniziato questa serie a come aveva concluso quella precedente. Vale a dire vincendo, numeri spaventosi in trasferta dopo la sconfitta sul campo della Juventus di fine 2016, sia di squadra, 10 vittorie e due pareggi esterni da Allora, che dei singoli, fra gol e assist, Mertens sta viaggiando ad una media di partecipazione di un gol e mezzo gara nelle ultime 28. . Eppure non è tutto perfetto, anche se sembra esserlo, perché questo avvio, con la gara contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League alle porte, potrebbe nascondere delle insidie inattese, basti pensare a quella che è la situazione a centrocampo per gli azzurri. . . Forse per la prima volta da quando c'è Maurizio Sarri in panchina, la certezza unica fra i giocatori da schierare in mediana e Allan, il cui momento di forma estraripante. . Nei ruoli di mezzala sinistra e di mediano è lecito aspettarsi sorprese. . 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 Per quello che riguarda Giorgini, invece, c'è un'attenuante ben più netta. . 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 Entrati per 90 minuti è fondamentale ed in questo Amsic non darà mai problemi. Per quanto riguarda Giorgino, realisticamente, andrà invece al ballottaggio, la sua condizione è al momento un punto interrogativo. La vera notizia, meglio ribadirlo, è che adesso le riserve suscitano davvero dei B e i problemi al loro tecnico, anche riguardo i punti fermi della squadra. Nel lungo percorso stagionale, l'allenatore ex Empoli dovrà tenere conto un po' di più di loro nelle rotazioni. Per poter continuare, in questo modo, ad inseguire un sogno.